L'asset class del venture capital sta finalmente diventando un asset class sempre più conosciuta e apprezzata dagli investitori. Stiamo velocemente recuperando il gap che ci divideva dai paesi più evoluti in questo mercato come US e UK. Questa accelerazione è stata guidata a casse depositi e prestiti e è arrivato il momento che anche i privati partecipano a questa crescita di valore tecnologica. Dorway è una piattaforma fintech e autorizzata Consob che consente ed ha accesso alle persone a investire su un'economia reale innovativa e sostenibile. Pensiamo che l'investitore attraverso il proprio investimento e quindi decidendo su quali aziende investire possa plasmare l'economia futura. Il successo di Dorway si misura nel valore economico generato delle aziende su cui abbiamo investito. In poco più di tre anni le aziende del nostro portafoglio hanno generato un fatturato superiore ai 70 milioni e hanno raccolto capitali per oltre 100 milioni e questo evidentemente è una crescita di valore non solo per le aziende ma anche per i nostri investitori. L'asset class del venture capital è potenzialmente molto profittevole ma è una asset class complicata. Dorway garantisce un servizio professionale di selezione, validazione e di gestione post investimento con un monitoraggio costante di quello che sono le performance dell'investimento stesso, fattore molto importante in quanto si parla di investimenti di medio e lungo periodo. Gli investitori che decidono di entrare in Dorway hanno accesso a deal esclusivi su cui investono i principali club di business angel europei e italiani nonché i principali fondi di venture capital italiani e internazionali. Una delle nostre caratteristiche principali è quella di dare accesso a investitori che per la prima volta si avvicinano a questa asset class a una community di investitori esperti che insieme condividono l'esperienza di investimento e di conoscenza di questa asset class. Dorway apre una porta sul futuro. Il futuro è in mano a ognuno di noi. Abbiamo il potere di cambiarlo e di costruirlo attraverso azioni che possiamo mettere in campo oggi.